A volere si vuole sempre, volevamo anche prima. Tra volere e riuscire c'è di mezzo una prestazione prima di tutto e poi anche un avversario. Soprattutto concentriamoci sul tipo di prestazione che possiamo fare, che dobbiamo fare e che vogliamo fare. Poi chiaramente si passa anche dall'avversario che è un avversario in questo momento da prendere non con le pinze ma con dieci pinze perché è quasi paradossale la situazione del Gubbio in questo momento qua perché ho visto le ultime partite e è una squadra che di fatto ha perso sempre avendo tantissime occasioni da gol e concedendo pochissimo. Questi sono degli alti e bassi all'interno di una stagione che capitano a tutti, scapitate anche a noi, di periodi in cui magari costruisci di più e raccogli di meno e viceversa. Quando una squadra con quel tipo di rosa e di qualità si trova in un filotto così negativo bisogna sempre stare attenti perché poi è una questione anche statistica. Del Caro ha avuto un affaticamento, è uscito in tempo per fortuna la partita scorsa quindi sicuramente non è disponibile questa partita qua ma probabilmente sarà disponibile la prossima. Cambierò parecchio, adesso non so ancora quanto. Qui avete questa mania qui a Rimini di pesare i cambi sulla formazione base, cioè non riesco neanche a capire da dove provenga questa cosa.